Ritorniamo in onda in Voce delle Chiese, io do subito il benvenuto al nostro ospite Gianluca Barbanotti, segretario generale esecutivo della Diaconia Valdese CSD. Buongiorno Gianluca, bentornato su Radio Beckwith. Buongiorno a tutti, ciao Daniela, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi, abbiamo invitato Gianluca Barbanotti per raccontarci e in qualche modo anticiparci in parte, ovviamente non in versione integrale certamente, ma in parte un po' gli obiettivi e le scelte che sono alla base del convegno cambiamenti, cambiamenti ambientali. Si gioca però un pochino su questa parola composita cambiamenti che è anche un invito proprio a cambiare alcuni nostri punti di vista sul tema dell'ambiente. L'ambiente lo sappiamo, è uno dei grandi temi di discussione attuale, un tema che coinvolge da vicino le nostre chiese che si impegnano a vari livelli anche per cercare di portare avanti un discorso di salvaguardia del creato anche a volte proprio alla base delle nostre comunità, delle nostre chiese e che riguarda anche il tema sociale perché a volte i cambiamenti riguardano anche i punti di vista che arrivano da persone che forse arrivano da altri paesi. Gianluca, in questo caso è ben rappresentata questa versione? Sì, hai colto il punto, diciamo che questi convegni annuali di aconia tramite servizio inclusione sono storicamente centrati essenzialmente sui temi delle povertà o delle immigrazioni eccetera. Quest'anno abbiamo provato a fare questo incrocio fra questi due temi cari a noi e alle nostre chiese ma come dire anche a molti altri per fortuna e incrociando il tema ambientale col tema delle immigrazioni. Allora non è una provocazione tanto per fare un gioco di parole però ci sono delle connessioni forti su questo. Per esempio pensiamo che l'inquinamento non è una cosa che finisce ai confini. È più facile fermare i barconi che fermare le nubi tossiche piuttosto che il cambiamento climatico. E qui ci troviamo di fronte a una situazione in cui la visione globale dal punto di vista ambientale non è in discussione e paradossalmente i paesi più produttori di inquinamento sono quelli che ne subiscono meno perché i paesi più fragili dal punto di vista ambientale le zone più fragili sono quelle, pensiamo alcune zone nell'Africa vicino ai deserti ma anche nel sud-est asiatico ci sono le zone che stanno subendo molto i cambiamenti climatici e provocando milioni di persone che si spostano e che quindi poi creano quei migranti che noi qui quando arrivano ci stupiamo e diciamo oh boh ma come mai vengono dalle nostre parti solo perché ci invidiano i nostri telefonini. In realtà ci sono dei cambiamenti grossi che stanno dietro questo. Assolutamente. Ne parlavamo prima fuori onda insieme appunto a Gianluca dicevamo il tema ambientale è sicuramente un tema importantissimo quindi non vogliamo sminuirlo ma a volte è un po' inflazionato e viene un po' giocata la carta dell'ambiente in modo facile, in modo un po' semplicistico interessante invece andare appunto un po' più a fondo e provare a ragionare su questo cambiamento climatico dove, perché, dove agisce soprattutto e che cambiamenti porta nella vita poi delle persone perché poi è questo il nocciolo della questione che il cambiamento ambientale, l'ambiente, non è la natura ma siamo anche noi, noi esseri umani che siamo all'interno di quello che ci circonda. Come avete pensato di trattare l'argomento invitando chi? Al convegno che ricordo si terrà giovedì 26 gennaio a Genova. Avete scelto Genova. Sì abbiamo scelto Genova, una città dove c'è una consolidata presenza evangelica da secoli e c'è da un po' di tempo anche una presenza della Diaconia Valdese con una serie di servizi e quindi abbiamo pensato bene anche per le ottime relazioni che abbiamo con le chiese locali di andare su Genova per fare questo convegno. Allora i relatori, sì, ecco, ci consente anche di fare un ragionamento quello sui relatori. Ci sarà Fulvio Ferrario che presenterà una prospettiva di visione della natura cercando di andare un po' oltre gli stereotipi classici vedendo di renderla un pochino più complessa rispetto a quello che è l'abitudine quindi magari fare un ragionamento sulla natura buona o natura non buona magari andando un pochino più a fondo ovviamente essendo un teologo della nostra facoltà partirà da una riflessione biblica dal pensiero biblico teologico protestante. Accanto a questo ci sarà poi dopo Mercalli che non ha bisogno di presentazione è un personaggio noto ai media e a livello nazionale che insegna all'università quindi c'è anche un background anche di formazione molto seria che conosciamo anche per il suo impegno su questi temi e quindi questo sarà diciamo il contributo più tecnico sui temi ambientali. Avremo per riallacciarci al tema delle migrazioni il professore Ambrosini che invece insegna a Milano e si occupa di migrazioni, di flussi di migranti che ci ragionerà un pochino sulle connessioni che ci sono fra i cambiamenti ambientali e i flussi migratori. Ultimo ma solo in termini cronologici di presentazione ci sarà un attivista afgano Malen Nastullah che è arrivato con, che è diciamo aiutato dalla diaconia nell'ospitalità in questo periodo della sua vita che ha però, proviene da un lungo percorso di attivismo nel suo paese proprio sui temi ambientali perché appunto non è detto che l'Afghanistan solo perché lo vediamo solo in televisione non subisca tutte le conseguenze che ci sono dei cambiamenti ambientali. Poi aggiungerei non solo dei cambiamenti ambientali ma anche di tutto l'export di materiali che noi non sappiamo come riciclare che come dire chiudendo gli occhi e tappandoci gli occhi rimandiamo in questi paesi rimandiamo in questi paesi in modo che questi poi dopo lo ricirchino e di fatto vuol dire che se li tengano vicino a casa loro. Quante cose si sollevano andando un po' nel dettaglio in effetti ed è anche interessante vedere come non è che insomma i paesi chiamiamoli più industrializzati hanno qualcosa da insegnare agli altri anzi a volte insomma aprire un po' l'orecchia e ascoltare i messaggi che arrivano da altri luoghi del mondo dove non è che insomma snobbano ecco la questione ambientale potrebbe essere interessante proprio per cambiare un po' le nostre menti. Esatto io credo sono molto convinto ma profondamente convinto che le persone che stanno come dire arrivando nei nostri paesi e con le quali conviviamo ormai da tanti anni sono quelle che daranno poi l'orientamento anche al nostro lavoro quindi confrontarci con loro è fondamentale anche aggiunto questo non tutti hanno le sensibilità che abbiamo noi rispetto all'ambiente quindi c'è anche quell'altro pezzo cioè chi viene da paesi o situazioni magari molto compromesse sul fronte ambientale o che ha rischiato la vita in Libia o sul barcone magari dal riciclo della bottiglia di plastica subito non riesce a dargli il valore che magari noi riusciamo a vedere in quello quindi c'è anche una questione anche qui come dire di interscambio rispetto alle sensibilità magari loro hanno una sensibilità nella natura molto diversa e più profonda di quella che abbiamo noi anzi probabilmente molte culture ci portano anche un contributo in questo modo quindi io credo che su questo c'è davvero uno scambio non da dire noi impariamo gli altri insegnano eccetera però di mettersi insieme provare a fare dei pezzi di strada insieme perché poi alla fine questa terra è di tutti quanti se va avanti ci staremo tutti e se non va avanti non ci starà nessuno ecco certo Gianluca diamo qualche dettaglio tecnico intanto la partecipazione è assolutamente aperta a chiunque sia interessato certo sì 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 su questo è aperto le iscrizioni sono ancora aperte si può andare sul sito della Diaconia Valdese cliccare si può partecipare il convegno è solo la mattina quindi uno può fare anche in giornata andare e tornare esatto si inizia verso le 9 9.30 si conclude intorno alle 13.30 ecco 13.30 l'appuntamento sarà a Genova l'abbiamo detto Palazzo Grimaldi della Meridiana e se volete partecipare se questo appuntamento vi è incuriosito appunto la partecipazione è libera bisogna però appunto obbligatoriamente prenotarsi sul sito diaconiavaldese.org c'è il form da compilare per poter prenotare diciamo la vostra presenza Gianluca vuoi aggiungere ancora qualcosa? vi ringrazio per ringrazio Radio Beckwith per questo spazio che ha dato invito le persone interessate a partecipare ci sarà ovviamente dopo diremo come è andato ci saranno gli atti del convegno eccetera benissimo allora il convegno cambiamenti in questo caso cambiamenti ambientali organizzato da Servizi Inclusione della Diaconia Valdese a Genova giovedì 26 gennaio ringrazio Gianluca Barbanotti segretario esecutivo della CSD Diaconia Valdese che è stato con noi buon lavoro grazie a voi ciao